Ma dove vai? Per eliminare la muffa non devi distruggere casa. Da oggi c'è Reosan Anticondensa. Reosan Anticondensa va impiegato in ambiente a forte... Forte di marmi. A forte condensa, in quanto funge da isolante termico che impedisce il raffreddamento della parete, nonché il suo sgocciolamento, nonché le muffe. Per le nuove abitazioni o per prevenirne la comparsa, puoi provare Reosan Antimuffa. Entrambi sterminano radicalmente ogni tipo di muffa e sono garantiti due dita, due anni. Reosan, l'antimuffa igienizzante per la salute della tua casa.